Grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti per la vicinanza, ma soprattutto questa paola è la vera attestazione che questo progetto si doveva realizzare e quindi questa è la risposta a quella persona o quelle persone che hanno cercato di rallentare e di impedire la realizzazione di questa opera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.